...che vede coinvolti tutti i livelli istituzionali nazionali, governo compreso. Il Ministro Del Rio ha dimostrato molta attenzione verso questo evento e ci aspettiamo ora davvero i gesti concreti verso i quali sono davvero fiducioso perché anche dal punto di vista economico vi siano tutte le condizioni per poter organizzare nel migliore dei mondi. Grazie.